ciao a tutti bentornati dopo un paio di video un po teorici e con uno completamente pratico parleremo di come si creano le slide e come ho creato le mie slide quali quelle di questo costo di questo bootcamp in particolar modo quello del video 4a quello sugli errori che software utilizzeremo utilizzeremo canva si lo so esistono software appositi come powerpoint come impress come google presentazioni ma canva ha dei vantaggi li vedremo subito andiamo proprio a vederlo all'opera questa è la dashboard non sto lì a spiegarvi molto come funziona canva perché abbiamo già visto nella puntata 3a e 3b quando abbiamo creato la copertina e una mappa per la nostra tesina in ogni caso vi linko qua sotto i video di andraciraolo e video di come imparare canva 10 minuti un altro sempre lo stesso autore un po più evoluto per chi vuole andarsi più a fondo la cosa che voglio farvi vedere nella dashboard è già dall'inizio quello che è il vantaggio di canva tutta l'ispirazione che potete trarre da questi modelli già fatti ce ne sono veramente centinaia potete provarli direttamente nella chiave di ricerca ad esempio proviamo casa come vedete in casa vengono fuori un'infinita ma anche prima di cliccare potete già vederli in anteprima addirittura potete potete trovarvi un invito per una festa di inaugurazione della della nuova casa tornò nella home basta cliccare in alto a sinistra per tornare sempre nella dashboard iniziale però io utilizzo di solito questo che è questo ribbon questa striscia dove ci sono le cose più importanti ad esempio non interessano le presentazioni diamone le presentazioni ce ne sono vari tipi c'è la presentazione quella che utilizzeremo noi altri tipi attenzione non confonderla con quella quattro terzi che è un po più strettina a noi interessa una full hd ci clicchiamo forte sopra ecco qua e avete la prima slide precotta e qui a fianco avete una serie di finestre la prima delle quale quella dei modelli è qui che potete andare a vedere tutti i modelli di slide che vi piacciono di più sono fatti bene qui vi vengono fuori in anteprima soprattutto della prima pagina adesso si carica poi ci cliccate sopra vengono fuori anche i modelli di tutte le pagine conseguenti qui sopra avete visto tra quelli usati di recente vedete proprio quello che usato di ispirazione che è summer special questa è la base che ho utilizzato per tutte le mie slide in particolar modo per chi riguarda la copertina ho utilizzato questa slide ci clicco sopra ed ecco che lo vedete in tutta la sua bellezza se notate qui in alto sinistra c'è un'iconcina del play di un video perché perché ci sono degli elementi in movimento in continuo movimento sono esattamente queste freccettine che però io cancello perché nel momento che le esportate poi come immagine come pdf diventano come dei buchi neri all'interno della slide stessa andiamo a vedere come velocemente cambiare questa slide per trasformarla in quella che ho creato io intanto andiamo a cambiargli i colori il colore di base come vedete è questo rosa fucsia andiamo a vedere invece qual è il mio io ho fatto uno studio sui colori particolarmente curato all'interno di questo bootcamp per cui mi sono creato la mia palette palette di colori velocemente ve lo farò un video opposto sulla gestione dei colori vi faccio vedere invece qual è il mio colore andiamo qua in a prenderlo in questo codice a questo qua è notion e così vedete vi fate un po gli affari miei come ho gestito in notion proprio la gestione di questa quarta giornata scusate un po questo mezzo inglese italiano insieme qui però tra l'altro mi sono segnato proprio i colori andiamo a vedere il codice colori che è un codice colore rgb che però ripeto andiamo a visualizzare un'altra volta quando io clicco su un elemento all'interno della slide mi appaiono alcune finestre di dialogo tra cui quella del colore clicco sul colore dello sfondo e vedete che qui già ci sono nella palette di documento i colori usati all'interno di questo e di questo documento voglio aggiungere un altro clicco su più potrei andare in giro cercare quello che voglio faccio prima dargli il codice colore tasto destro lo incollo abbiamo appena copiato ed eccolo qua questo è il nostro azzurrone come vedete anche qui c'è una parte che però cancello perché non è quella che mi interessa poi lo vedremo questi cerchioni qua e tutto il resto in realtà sono bianchi non sono questo azzurro vado a darglieli ho selezionato tutti insieme basta cliccare su uno poi tenendo premuto shift continuare a premere sugli altri oggetti li selezionati andiamo a trovarci il bianco faccio senza andare a prendere il codice perché è quello in alto a sinistra ricordo che il nero invece in basso a destra è comunque coice fff eccolo lì avete visto che si è appreso tutti i colori la stessa cosa potrei fare anche del testo il testo occhio perché in questo caso è legato a un altro testo più piccolo è raggruppato in realtà per rompere questa unione basta andare col testo destro e annullare il raggruppamento o anche qui nei tre puntini chi ha un monitor un po più largo io sto registrando un full hd il mio è un po più largo in realtà vi faccio vedere un attimo avrà come vedete più pulsanti fuori se qualcuno ha un monitor più piccolo invece ne avrà meno sono tutti raggruppati all'interno della finestrella quei tre puntini in questo caso vado lì dentro annullo il raggruppamento adesso i due elementi sono separati questo posso killarlo velocemente questo monserrat e mi va bene gli do il colore bianco fatto questo non cancello questo cerchio lo sposto perché mi servirà solo di misura e in realtà voglio metterci dentro un'immagine che ho già creato ve le faccio vedere eccole qua e voglio mettere dentro esattamente questo qua il simbolo del bootcamp bianco me lo riporto fuori che dà fastidio per tirarlo dentro lo trascino dalla finestra direttamente sopra la slide in cava eccolo qua lo rimetto sopra per prendere la misura giusta e non era neanche tanto sbagliattina eccola lì e me lo metto fianco cosa che non mi quadra molto che non mi piace molto è il fatto che in trasparente si vede sotto parte del retino sottostante per evitare questo non fatto altro che prendere questo metterlo lì sotto e dargli il colore di sfondo che questo azzurro questo è quasi finito andiamo a cambiare qua qua c'è scritto giorno quarto giorno quarto e quarto giorno molto più piccolo per cambiare la dimensione dei font posso tirare questi che sono i punti di controllo all'interno di ogni tipo di oggetto posso scrivere direttamente qua mi credo che un 24 siano posto o se no cliccate qua e vedete quelle che sono proposte dal software voglio metterle dentro adesso un'altra immagine che è quella un altro paio di immagini che sono due scritte perché metto dentro le scritte invece di scriverle direttamente perché una della limitazione di questo software in versione gratuita è che non potete mettere dentro font vostre che sono sul computer che non siano previsti da cava piccola parentesina e qui devo accendermi e no ero già acceso in realtà canva è a due versioni una pro e una gratuita quella pro in realtà dà la possibilità di fare alcune cose tra cui come vedrete tutte quelle cose che sono selezionate o sono identificate con questa iconcina qui che è una corona una di queste è proprio la possibilità di cambiare i font ad esempio se vado qua posso cambiare tutti quelli che sono gratuiti li vedete che non sono segnalati da questa iconcina ma una delle particolarità della versione pro è proprio quella di poter caricare un carattere che invece non ha la versione base la versione base è già ampiamente sufficiente e voglio dirvi anche che è possibile avere la versione pro in maniera gratuita come studenti basta che il vostro docente inserisca la vostra classe all'interno di canva educational e linko anche qua sotto un altro filmato che è di prof digitale per far vedere i vostri docenti come si potrebbe fare questa cosa ma vi assicuro che già con quella base fate tantissime cose allora vi ho fatto vedere quindi come ho tirato dentro come fosse un'altra immagine a qualsiasi questa scritta l'ho ridimensionata me ne manca solo un'altra che è proprio quella del titolo che era quello della presentazione al pubblico va benissimo al volo questa dimensione poi insomma le finiture capite si fanno un po' più calma l'unica roba che mi manca è che avevo cancellato quella iconcina a forma di croce devo smetterla di continuare con il mouse so che strippate vado in elementi è il quarto tasto qui a sinistra clicco qua sopra nella chiave di ricerca e scrivo croce tra le croci proposte tra cui quelle gratuite c'è questa che mi sembra proprio molto simile a quella precedente ha un colore sbagliato gli do subito il mio biancone la riduco e il gioco è fatto adesso voglio creare una seconda slide la seconda slide posso crearla con questa iconcina qua questa è una finestrella a scomparsa che è stata aggiunta veramente di recente io di solito sono abituato a lavorare con questa giù perché voglio il massimo di spazio lì sopra è uguale potete cliccare o aggiungi pagina qua o aggiungi pagina qua come volete vedete che la vostra pagina ha lo colore di sfondo di quella precedente perché si presuppone che abbiano quello lì noi sappiamo invece che non va bene abbiamo visto il video precedente torniamo ai modelli ho ancora attivo il mio modello precedente vado a trovarmi quella che è l'immagine che voglio usare da base per fare il resto delle slide eccola qua allora intanto come sempre tiriamo via le cose che girano tiro via questa immagine che non mi serve e adesso andiamo a dargli un po' di colori giusti questo qui è un testo che voglio tasto destro annullare gruppamento eliminare eccolo lì e questo qua me lo tiro giù lo faccio già cominciamo dal testo va bene me lo faccio già del colore giusto lo voglio farlo diventare tutto maiuscolo per cui tra gli effetti qua c'è questo quello del maiuscolo lo clicco qui sopra era errori mi sembra fosse la prima sì ingrandisco come voglio però mi sembra che fosse un 160 quindi lo scrivo diretto e questo come vedete tutte le lettere sono un po' appiccicate si chiama crenatura la distanza tra le singole lettere posso modificarle con questo tasto di spaziatura che mi dà la possibilità di spaziare anche le lettere ecco questo è un po' meglio cambiamo quello che non ci va allora questo sfondo qua in questo caso lo facciamo biancone no no lo sfondo diciamo torniamo indietro per tornare indietro avete visto qua sopra ctrl z come dappertutto seleziono lo sfondo adesso ci siamo questo è bianco e questi oggettini qua me li faccio tutti e potete anche farli tutti in un colpo così così e così sempre con lo shift per farlo multiplo guardate qua quanti bei colorini invece gli diamo uno solo tac fatto ecco che questo ci è scappato fuori e no volevo farvi vedere una cosa prima sui colori quando io ho dei colori dentro una slide anche all'interno del documento ci sono questo mi serve in realtà perché questo è il colore che voglio dare a questa trisetta adesso posso tornare a fare la selezione di prima e dargli un bel blu perché questa qua non è male allora prendo no fermo lì seleziono solo una cosa la faccio più piccolo questa specie di circonferenza con questa texture strisce questa me la porto in su me la copio per copiarla ci sono vari metodi posso fare tasto destro no qua no scherzetto posso andare qui e cliccare due volte con questo tasto o posso semplicemente invece trascinare per trascinare gli oggetti quelli grandi vedete basta cliccarsi sopra quelli piccoli vi viene fuori un'iconcina posso trascinarlo e invece di trascinarlo normalmente clicco il tasto alt e questo me lo copia torniamo come era prima lo voglio fare di due colori uno azzurro e uno viola il viola ce l'ho già però non li voglio lineati così che sono un po' bruttini facciamo una roba simile mi li seleziono e mi li porto qui cosa brutta ho visto che invece sono sotto al cerchio io voglio portarli su tasto destro sposta in primo piano e così vengono davanti anzi questo mi piace di più in primo piano quindi non è più coperto dall'altro vediamo qua questo qui mi sembra fosse una robettina così bassa questo va bene lì così però questo lo voglio rendere più trasparente vado qua a queste concine avete visto il concine trasparenza la metto in trasparenza e sono posto forse un po' più trasparentino ma eccolo e posso fare la stessa roba anche qua ma invece di fare ogni volta così posso selezionare diciamo la parte in cui voglio copiare i dati e poi usare questo copia stile come è in word vado qui sopra e lo do alla cosa che voglio finire grosso modo questa popiccia entrata questa è la slide di base e la slide di base che avete visto anche adesso sono entrato con questa e poi ne ho fatto una simile qua così e dopo ci sono le slide con lo sfondo scuro abbiamo visto perché serve lo sfondo scuro successive non mi resta altro che copiarla questa slide e cambiargli alcune cose per copiare questa slide ci sono vari metodi allora qui posso fare semplicemente il tasto più l'avete visto e me ne appare una se no posso anche andare a vedere qui c'è lo zoom come siamo messi con tutto lo slide show lo guardo da qua e anche qui appare il tasto duplica così me lo guardo qui ti dà anche la possibilità di cambiargli di posizione in questo caso non c'entrava nulla ma possiamo farlo una volta che abbiamo visto il tutto clicchiamo due volte torniamo alla finestra di modifica volevo modificare qualcosa voglio modificare intanto lo sfondo voglio farlo diventare scuro questo sfondo qui che era bianco eccolo qua e voglio far diventare un blu molto scuro non ce l'ho qua non vado a cercarmelo me lo copio da qui torno aggiungo un colore incollo eccolo qua è un blu scuro come vedete fa parte di non è nero nero sarebbe qui ma ci assomiglia molto al nero in questo caso non mi interessa che ci siano queste cose qui non mi interessano molto queste qui è un po più vicino è un po più piccolino e questa è la base una base ad esempio per poter lavorare con oggetti vi ricordate che ho messo una tesina verticale una orizzontale non sto lì a farvi tutto però possiamo andare negli elementi cancello qua la chiave di ricerca vado nelle forme normali avevo fatto un foglio di testo orizzontale chiaramente sarà bianco e uno invece è una tesina che si trasformava in formato orizzontale posso copiarlo tasto alt e clicco vedete che ho anche delle linee che mi aiutano a orientarmi nello spazio questo lo modifico potevo anche girarlo se volete facciamolo più bello giriamolo che così vedete anche l'utilizzo di questo strumento qui in mezzo c'era una freccettona come faccio vado in elementi cerco freccia mi prendo questa freccia qua che è una bella gratuita che va sempre bene me la riduco in realtà mi serve specchiata capovolgi orizzontalmente eccola lì però preferisco girarla un po in questa maniera grosso modo la slide era questa una volta che faccio le slide come avete visto sono sono basi adesso vi faccio vedere la base per creare invece quella l'effetto di testo messo in evidenza o meglio utilizzando il contrasto copio questa slide qui con questo tastone vado giù sono già sulla seconda così la vedete bene cancello queste immagini che non servono più mi crea un testo vado sul sul testo vedete qua c'è il pulsante apposito aggiungo un corpo del testo questo è un open sense preferisco il mio Montserrat scrivo qua tipi di errori e questo titolino lo porto su vedete che qui posso centrarlo anche solo seguendo questi snap che escono mi copio tenendo premuto alt e tirando in giù questo testo e scrivo errore 1 è piccolino questo per cui potrei ingrandirlo un po facciamo se no facciamo un 48 che va bene 48 eccolo lì lo centriamo rispetto lì e adesso posso copiarmi gli altri questo è l'errore 2 basta cambiargli il numeretto sempre che ce la faccia e poi ovviamente l'errore 3 eccolo lì fatto questo vi faccio vedere come mettere la spaziatura verticale allora magari sposto questo e voglio che ci sia una spaziatura costante verticale tra i tre elementi vado sempre qui anzi la spaziatura è quasi posizione si nei tre posizione metto qui c'è distribuisci distribuisci in maniera uniforme verticalmente una volta che lo clicco questi sono spaziati giusti questo però me lo tiro un po in giù poi no tutti grazie ecco per cominciare a fare quell'effetto contrast di contrasto cioè intendevo che deve apparire un testo alla volta e man mano che appare l'ultimo testo quelli precedenti diventano semi trasparenti allora rendiamo semi trasparenti quelli precedenti nel senso che in realtà non sono potrei farlo con la trasparenza l'abbiamo visto qua non uso questo perché a volte esportando oggetti in trasparenza poi possono venire fuori delle problematiche preferisco simularla con un colore grigio vado a prendermi il grigio il grigione il grigione quello qua testo grigio che è un 59 59 59 poi vedremo sempre un codice RGB gli do il colore grigione lo aggiungo qua me lo copio anzi me lo incollo l'ho già copiato ed eccolo qui e questa è la slide finale adesso me ne copio faccio un'altra copia vado su e non mi resta altro che prima di fare questo voglio far vedere il testo qua lo vorrei mettere tutto maiuscoletto ecco questo è il vero titolino ripeto copio vado in quella precedente mi cancello l'errore 3 che non mi serve più e la penultima da un colore bianco stessa roba faccio qui copio ancora vado su tiro via l'ultima sbiancheggio la penultima e poi doce sin fundus all'ultima tiro via proprio ogni errore quale sarà il risultato ve lo faccio vedere eccolo qui sarà la prima slide questa poi questa poi questa poi questa questo proprio il metodo che ho utilizzato durante le slide è un comodo per orientare sicuramente l'interesse dello spettatore verso una parte ci manca solo di andare a vedere come rendere come esportare poi questo lavoro fatto andiamo a vederlo basta andare qui c'è questa freccettona che va in giù cerchiamo il tipo di file in questo caso pdf va bene ma poi andremo nel video successivo a vedere le altre possibilità premiamo il tasto scarica se non lo faccio perché è lungo immaginate che poi esca un pdf e mi verrà chiesto dove salvarlo alla fine il gioco è praticamente finito non mi resta altro che salutarvi e darvi appuntamento al video prossimo ciao 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 ciao